Prenderà il via il 7 novembre con la trasferta a Sassari il campionato di Serie 2 della Palla Manolonesa che nella serata di martedì 20 ottobre è stata presentata a Palazzo Loggia. Presenza di persone ristretta a causa delle normative per contrastare il Covid, ecco perché il presidente Paganotti ha esordito ringraziando gli sponsor. Quello 2020-21 sarà un campionato impegnativo a causa del livello che rispetto allo scorso anno si è alzato. Sarà un giro sicuramente di ferro perché tre quarti delle nostre squadre che abbiamo noi possono giocare tutti in a uno senza problemi. Le ragazze sono cariche. Inseriamo quattro ragazze di 17 anni in pianta stabile in prima squadra e poi è stata poi la decisione finale seguendo un progetto di due anni fa e questa volta è la seconda volta che rinunciamo la A1 ma facciamo la A2 solo discursivamente per dare spazio ai nostri ragazzi e per valorizzarle. Sicuramente, l'ho detto prima, lo ribadisco, sarà un girone duro però posso dire che anche noi grazie a un innesto alla spagnola Nerea Medina che ha voluto entrare nella famiglia della Leonessa Brescia sicuramente porterà dei vantaggi perché la sua esperienza e la serietà sicuramente può far bene ma soprattutto a livello giovanile. La voglia e l'entusiasmo di scendere in campo delle Leonesse faranno sicuramente la differenza.